Questo pranzo di oggi a Villa Grande dimostra che il centrodestra o è questo o non è, cioè sia nella Lega sia dentro Forza Italia ci sono due leader e non ci sono alternative possibili al momento. Uno è Salvini, che nessuno può pensare di scalzare dall'oggi al domani dentro il carroccio e l'altro è Berlusconi, che nonostante gli anni, nonostante tutto quello che ha attraversato di buono e anche e soprattutto di cattivo nella politica italiana, rimane, dicevi tu prima, il professore che rimette tutti in riga e paradossalmente con i pochi voti che ha, anche in termini percentuali, è decisivo sia per la formazione di quella maggioranza, se e quando si andrà a votare, sia per l'esito dell'elezione del Quirinale. Quindi è un'utilità marginale molto elevata.